E' la vicenda della privilege yard a tornare fortemente alla ribalta dopo le perquisizioni effettuate dalla Guardia di Finanza di Arezzo e gli avvisi di garanzia emessi dalla procura all'ex presidente di Banca Etruria Giuseppe Fornasari, al suo vice Giorgio Guerrini e al funzionario Paolo Luigi Fumi. La procura procede per banca rotta fraudolenta, per finanziamenti spericolati, come appunto quello alla privilege yard di 30 milioni di euro per la faraonica costruzione dello yacht di lusso che doveva diventare il più grande del mondo ma che, scusate il giro di parole, non è mai andato in porto ed è rimasto incagliato nel cantiere fantasma di Civitavecchia, incagliato come i finanziamenti ottenuti per la sua costruzione che anzi ormai sono accantonati come crediti deteriorati. Insieme a Banca Etruria, visti i grandi nomi coinvolti nel megaprogetto, parteciparono le più importanti banche italiane, tra cui Unicredit, guidata dall'allora direttore generale Roberto Nicastro. L'istituto concesse 18 milioni di euro che non sono mai tornati indietro. Quell'investimento viene giudicato dai PM che indagano sul fallimento di Banca Etruria come irrituale e anomalo per i tempi, le modalità e le assenze di idonee forme di garanzia. Intanto, in queste ore, è andata deserta l'asta per la vendita del cantiere e dello scheletro dello yacht che, come i crediti, è deteriorato dal sole e dalle intemperie.